Che cosa devo fare? Via! Preparati! Posso magari consigliarti qualcosa? È uno dei miei articoli più apprezzati. Queste mani sono più capaci di quello che sembra. Via! 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 Grazie a tutti. 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 Se vuoi dare un'occhiata in giro, fai pure. Su, lascia fare a me. Una modifica così elementare si può fare in un lampo. E' un fatto personale. Anche il mio nome l'ho amato. E' un fatto personale. Sì. Grazie per aver guardato la figlia. E' un po' di giro. E' un po' di giro. Ecco cosa stavi puntando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un po' di giro. 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 Scegli un'abilità. 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 Sì 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 Completato! Buon record! Grazie a tutti.